No, io penso che siamo all'inizio di una vicenda forse grossa, i cui dettagli io personalmente non conosco, in ogni caso io non solo sono garantista come te e come tanti altri, ma arrivo a dirti che anche un rinvio a giudizio non è una sentenza, per cui non è niente, rinvio a giudizio significa che bisognerà processare, accertare la verità e poi eventualmente condannare, ma anche il giudizio di primo grado non è sufficiente, bisognerà arrivare al terzo grado volendo rispettare la Costituzione, per cui io sono garantista per tutti, anche per gli assassini, è inutile accanirsi prima ancora di conoscere la verità, infatti in questo caso è un disastro, l'unica cosa che mi ha colpito di questa vicenda è la compravendita del voto che rivela una miseria della politica che si riduce a comprare i voti per 50 euro e soprattutto una miseria effettiva da parte di coloro che accettano di vendere il proprio voto per 50 euro con cui puoi comprare il gelato per la famiglia e basta, insomma siamo a folia, vuol dire che c'è una situazione tragica. 50 euro ci compri un bel po' di gelato, no dico 50 euro per te lo so che sono pochi. Ho detto per la famiglia, no 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 sono pochi, 50 euro cosa compri con 50 euro? Eh dai parliamoci chiaro, un voto per 50 euro, ma scherziamo, capirai 500 mila. Sì segnala una condizione.